oggi amici di facebook torniamo a mail time non so perché la prima puntata di questo format nuovo questo è andata molto bene a quanto pare vi piace vedere i pacchi che mi arrivano ogni settimana e quindi continuerò a questo punto porterò avanti il format mail time o tre pacchi oggi proprio sono arrivati oggi come al solito tengo fuori magari le cose di di amazon di cui so già il contenuto e che sono meno interessanti invece questi sono tre pacchi misteriosi non so esattamente cosa sono so più o meno cosa mi deve arrivare in questo periodo però forse questo lo so ed è una mega figata ma magari no partiamo da questo mai visto fantastico gioco fantastico gioco di parole della mai visto srl sfida la tua creatività notizia bomba si è stato scelto da mai visto apriamo vediamo che diavolo è ok braccialetto illuminati o illuminati scegli tra le sfide in corso quelle che ti ispira di più e crea il tuo video filma gira il tuo video basta uno smartphone fatti sentire pubblica il tuo video su tutti i canali guadagna i 10 video più votati su mai visto e vanno in finale ok quindi è un mega spottone non volevo fare uno spot a questa azienda ma c'è anche il comunicato stampa ci avete preso ragazzi siete cascati dentro un mail time anche se non avrei voluto andiamo avanti allora questo invece è un pacco dalla da dove viene da bibicorps france chissà 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 vediamo un po' che cosa c'è dentro oh yeah fuck yeah allora questo è il libro di super 7 international toy pirates questo libro l'ho preso perché farà parte ed è l'ultimo che mi mancava quindi aspettatevelo a breve della prossima puntata di nerd coffee table books adesso lo apro anche così ve lo faccio vedere al volo proprio tanta roba tanta roba questo libro lo vedrete nella prossima puntata di nerd coffee table books super 7 the book non è proprio facile da trovare però l'ho trovato poi ultimo un ultimo pacco di oggi per me time vediamo questo è un pacco che viene da usps quindi viene dall'america sì perché viene da un'asta ebay questa roba qua cosa sono spectacles di snap inc sono gli occhiali che riprendono creati da snapchat che da ora si chiama snap e basta e questi sono gli spectacles con la loro custodia custodia avrei potuto comprare l'ultima volta che sono andato in america ma sono un coglione mi sono completamente scordato di questa opportunità e quindi li ho sovrappagati comprandoli dall'italia però volevo assolutamente mostrarvi in un video sono una mega figata credo sulla carta almeno dopo li utilizzerò nelle prossime settimane non è un video che posso fare domani devo un attimo utilizzarli un po raccogliere un po di materiale non li apro ora perché farò un unboxing dedicato e un video dedicato proprio a questi spectacles ok recap finale di oggi allora mi è arrivato oggi questa roba di mai visto diciamo pr spot non voluto e poi il libro di super seven che vedrete in un video di nerd coffee table books nella quinta puntata che arriverà prossimamente questo era l'ultimo di quelli che volevo raccogliere per cui sono a posto e posso girare girerò spero tra questo la prossima settimana e poi mi sono arrivati anche gli spectacles di snap inc che avranno un video bello e dedicato adesso finalmente arriva l'estate il momento migliore di recensire questi spectacles li porterò per le prossime settimane girerò video e poi farò un bel unboxing barra un video in cui vi spiego cosa sono come funzionano e come vanno continuate a seguirci qui su incauto acquisto il canale dedicato appunto gli unboxing a tutte le cose un po nerd fate un bel like fate uno share se vi è piaciuto questo video ci vediamo nel prossimo mail time o nel prossimo video di incauto acquisto ciao ragazzi